Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo il quinto film della rassegna AFS Fall Edition 2021 in collaborazione con Asia Institute, Armonium, un film drammatico del 2016 diretto da Fkada Koji. Toshio, sua moglie Akie e la loro figlioletta Hotaru vivono una vita tranquilla e senza grandi emozioni. All'improvviso una vecchia conoscenza di Toshio, Yasaka, si presenta alla sua officina senza alcun posto dove andare perché è appena uscito di prigione. Lentamente Yasaka entra a far parte della famiglia, aiutando la piccola Hotaru con lo studio dell'Armonium, Akie con le facciane di casa e Toshio nell'officina. Un giorno tuttavia rivela ad Akie il suo tragico trascorso e chiede perdono per non averglielo detto prima. Durante una gita al fiume apparentemente tranquilla, il misterioso passato dei due amici viene a galla e un fatto drammatico scuote la vita della figlia, mutandone per sempre il futuro. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2016 nella sezione Insartain Regarde vincendo il premio della giuria. Fra gli altri premi ricordiamo inoltre quello per miglioratore ad Asano Tadanobu agli Asian Film Awards e quello di miglioratrice a Tsutsu Mariko ai Mainichi Ega Konkuru. Se siete curiosi di conoscere l'oscuro passato di questa famiglia e quello che il futuro ha in serbo per loro, vi aspettiamo martedì 14 dicembre alle 21, sempre al Cinema Rialto. Per rimanere aggiornati sulla vendita dei biglietti e sugli altri film della nuova rassegna, seguitici sui nostri canali, trovate il link in descrizione. A presto! Grazie!